Dopo aver terminato le riprese di Violet Like The Sea 2, ho deciso di approfittare di alcune vacanze e del Natale per tornare nella mia città natale per poter trascorrere un po' di tempo con la mia famiglia, i miei familiari e le persone a me vicine. Era necessario riposarsi un po' e staccare la spina, anche se non sto affatto esagerando. Volevo anche gustare la cucina turca, che mi mancava moltissimo. Quando tornai a Roma sapevo che mi sarei allenato duramente, sapevo che ci sarebbe stato un cambiamento radicale nelle mie abitudini per prepararmi al prossimo personaggio, Sandokan. E così è stato, appena tornato ho iniziato a mixare. Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti mentali. È stato un periodo molto difficile, ho perso circa 10 kg in un mese, il mio peso esce su da 94,5 kg a 85 kg. Era ed è una fase particolarmente intensa, mi è piaciuta moltissimo la vita, devo fare attività fisica due o tre volte al giorno e fare digiuno intermittente 16-8 mantenendo le calorie molto basse. Non c'è nulla di cui preoccuparsi però, nonostante sia stanca, sono completamente sana, ringiovanita, disintossicata e leggera, ma soprattutto sono molto soddisfatta. A quanto pare tutto avviene sotto costante monitoraggio da parte di professionisti serie e competenti. In fondo è questo che fanno gli attori, si trasformano con dedizione quando necessario e si adattano di volta in volta al nuovo ruolo. Insomma, continuerò a hissare le vele fino a raggiungere il perfetto Sandokan che ci siamo predisposti. Ma confesso che oggi ho deciso di prendermi una pausa dalla regola e mangerò quello che voglio, sperando di trattenermi. Vi chiedo di continuare a sostenermi come sempre. Abbraccio. Arrivederci.